Non si ferma il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti di più larga diffusione tra i giovani ad Agrigento, il cui contrasto richiede tuttora lo sforzo continuo e diuturno delle forze specializzate della Compagnia della Guardia di Finanza di Agrigento. In particolare alla stazione dei Pullman del piazzale Rosselli l'infallibile fiuto di Tasco, cane antidroga a distanza presso le fiamme gialle di piazza San Giacomo, ha consentito ai finanzieri della Compagnia di Agrigento di arrestare in fragranza di reato un cittadino del Gambia di vent'anni, il quale in arrivo da Palermo portava con sé oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente. Il corriere era residente a Palermo ma abitava di fatto a Porto Empedocle ed era in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari. La sua sorte era già stata segnata nel momento in cui il finanziere a quattro zambe è saltato a bordo dell'autobus, ha individuato la busta con la droga da spacciare, cinque panetti di ascisce e circa 20 grammi di marijuana e l'ha ricondotta al suo proprietario prima ancora che quest'ultimo potesse avanzare la benché minima reazione. Sequestrato lo stupefacente, i militari hanno subito provveduto a sottoporre a minuziosa perquisizione sia il giovane che il suo domicilio. Arrestato e messo a disposizione del magistrato di turno presso la procura della Repubblica di Agrigento con il procuratore Andrea Maggioni in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni.